Ciao a tutti, benvenuti a questo appuntamento con Zona Giallo Verde. Ogni settimana faremo il punto della situazione del San Lorenzo Monticelli. In questa prima puntata parleremo delle partite giocate sabato dal nostro settore giovanile, guidato da murali bombini e fresco di affiliazione con Football Academy Piacenza. A seguire le partite della domenica di allievi prima squadra. Partiamo con i nostri pulcini misti, allenati da bambini murali, con i collaboratori Ussia Salvatore e Giorola Vittorio. I bambini hanno affrontato Junior Drago, che nell'occasione si è presentato con la squadra femminile. Ascoltiamo le parole di bambini. I nostri pulcini hanno affrontato una squadra femminile, un evento significativo ed importante. Infatti nel terzo tempo le squadre sono state mischiate e bambini e bambine hanno giocato assieme. Al di là del risultato, la società è stata contenta della partecipazione dei giovani a questa partita. Come ogni sabato, tutti i bambini hanno preso parte al quarto tempo, un momento di merenda in cui entrambe le squadre si uniscono e si confrontano. Il San Lorenzo Monticelli tiene in modo particolare a questa esperienza, in quanto è un momento di condivisione e svago per tutti i bambini e le società ospitate. Gli esordienti misti, allenati da Veronese Luca in collaborazione con Bonvini, Murali e Donnici Salvatore, sono la nota lieta della giornata. Consapevoli che c'è sempre tanto da lavorare, sono la squadra che al momento esprime il miglior calcio e questo grazie ai mister preparati e ai ragazzi che stanno dando il 100%. Sentiamo ancora Bonvini. Gli esordienti hanno dimostrato di aver acquisito tutto ciò che viene provato durante la seduta di allenamento. Il lungo lavoro, fatto da mister Luca Veronese, sta dando i primi frutti. Anche per loro, come quei pulcini, viene attuato l'importante momento chiamato quarto tempo, con la grande collaborazione dei genitori, i quali ogni sabato preparano cibi e bevande. Gli allievi, guidati da una leggenda come Carlo Savoretti, aiutato da Cancelleri Mattia, Ghizzoni Davide e Ambrogi Massimo, vincono a Dal Seno per 5 a 1, confermando il quinto posto in classifica. Passiamo alla prima squadra, dove i ragazzi di Mauro Panzi vincono la terza partita consecutiva e si confermano, secondo in classifica, a tre punti dalla capolista. Finisce 4 a 1 contro il Gropparello, con doppietta di Ussia Giuliano e gol di Gazzola Marco e Domenico Rossi. Siamo giunti alla fine di questa prima puntata. Il San Lorenzo ringrazia tutti gli sponsor e tutti i suoi collaboratori e ci vediamo settimana prossima. Ciao!